Salve io sono Pio e bentornati nella mappa Parkour Limbo Signori come vedete ci troviamo esattamente nello stesso punto dove ci siamo riusciti nello scorso episodio Nonché lo stesso punto dove abbiamo bestemmiato tantissimo Perché non riusciamo ad andare avanti Ora io prima di iniziare l'episodio faccio partire proprio adesso il timer di 20 minuti Così non rischio di registrare per 3 ore E poi devo riuscire a capire come fare ad andare avanti Ora essendo che è passato un giorno da quando ho registrato lo scorso video Io farò tutto un po' più con calma perché sinceramente non voglio rischiare di bestemmiare anche a questo episodio Anche se già stiamo iniziando malissimo Il mio intento sarebbe quello di procedere visto che non dico che vorrei fare altri 5 livelli Ma almeno finire questo in questo video per me sarebbe già una cosa gradita Io non dico che devo finire pure la mappa però almeno questo livello di merda Se ce la faccio a finirlo sarebbe già una buona cosa Solo che a quanto pare il creatore della mappa non mi vuole per niente Eh non riesco a parlare scusate sto diventando scemo Non mi vuole per niente facilitare la cosa Visto che mi vuole solo rendere la vita impossibile In quanto adesso stiamo per andare in un punto dove c'è un salto impossibile C'è questo salto di merda Come faccio a fare questo salto del cazzo? È impossibile porca puttana Non si può fare Poi io devo arrivare pure là sopra come cazzo devo fare Cioè guarda che casino poi tutti i salti ad angolo Bastardo di merda Porca puttana Porco il cazzo ce l'ho fatta Oh cazzo Allora non è poi così impossibile Ora però cerchiamo di non cadere Sto bastardo ha fatto tutti questi cazzo di salti ad angolo Proprio un infame di merda Madonna io non so come cazzo mi sto salvando Porca puttana Io adesso devo andare lì e poi lì sopra Madonna che casino Guarda che infame di merda tutti questi cazzo di salti ad angolo Che bastardo Io qua lo so già che cadrò E invece no Mi è andata bene Però questo è un po' più complicato Perché stiamo un po' bassini Però ce l'abbiamo fatta per fortuna Madonna santissima Che fastidio Che cazzo di casino Sti salti di merda Guarda che bastardo Guarda guarda Ma quanto sei bastardo infame Dico io Ma poi con sto cazzo di erba In mezzo le palle Che fastidio Che non ti fa vedere un cazzo Cerchiamo di non morire qua Voi non lo sapete Ma io sto in realtà tremando Perché Non ho un cazzo Voglia di morire sinceramente Perché io non riuscirò mai più A rifare quel salto di merda Ok Ok Sta andando tutto stranamente troppo bene Ok Ti prego dimmi che abbiamo finito Sto cazzo di livello Ti prego Dove devo andare? Dove cazzo devo andare? Devo andare di qua? Oh dove cazzo? E la fine di sto livello di merda E qui? Ok Oh cazzo alleluia Madonna santissima Livello 6 Madonna ci è andata bene Per fortuna non ci siamo stati 3 anni Allora Detour Through level 6 Quindi Detour non so cosa significa Attraverso il livello 6 Attenzione Sei ancora nel livello 5 Quindi fai attenzione In che senso? Cioè Cioè se muoio qui Mi fa ritornare all'inizio del livello 5 Ma tu sei bastardo infame Ma tu sei Un fottuto Sronzo figlio Di buona donna Ma tua madre Fa le cose brutte A bordo strada Per soldi Ma porca troia Ma io ti odio tantissimo Ma sei una persona di merda Porco il cazzo Madonna Ma to quanto bestemmio Se mi fa tornare all'inizio del livello 5 Porca puttana Dove cazzo devo andare? Devo andare lì? Non credo E invece si E mo? E col cazzo che vado da sta parte Perché lo so già che Finisco per arrivare Ma porco cane Dicevo Lo so già che finirò Per arrivare Dove c'erano le ragnatele Quindi col cazzo che vado là C'è qualche pulsante nascosto Visto che nello scorso video Abbiamo scoperto Che ci sono pulsanti nascosti Che cazzo è successo? Perché sta laggando? Cazzo succede? Perché lagga a casissimo? C'ho una cazzo di 40-70 E un Ryzen 7 Porca puttana Perché lagga? Regà io ho paurissima Io ho paurissima perché Ah no io ho iniziato qui solo Quindi non posso andare Dove ci sono Nella mia tela Perché è lì in alto Quindi penso di dover andare Qui giù Credo Suppongo Solo che Dove cazzo andiamo qui? Ah ok La fine del livello Bentornato Come bentornato? Ma io ti odio Ti prego livello 6 Ma do meno male Ma do meno male Meno male che ripartiamo da qua E non da livello 5 Madonna santissima Mi stava venendo un infartino Ma di quelli brutti proprio Madonna santa Che fastidio E mo? Watch out for the holes C'è quel buco intendi? Sarebbe questo? Ah no forse sarebbe Fai attenzione ai buchi? Non lo so Lo sapete Il mio inglese Fa altamente cagare Quindi sinceramente Non ne ho la minima idea Oddio E no Lì si cade Ok 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 Mannaggia la miseria Meno male che stanno le scalette qua Ma porco cane Mannaggia A chi so io Ok Va bene Ce la stiamo facendo Qui c'è dell'erba compenetrata Quindi questo mi fa capire che Qui siamo già all'esterno Qui c'è una specie di C'è una vera e propria catena Appesa Penso di dovermi buttare nell'acqua Come ho fatto a prendere danno Da due blocchi di altezza? Ma scusa Ma in che senso? Livello 7 Ma quando siamo entrati nel livello 7? Stavamo nel livello 6 Ma quando abbiamo passato il livello? Ma vabbè Comunque posso dire che sta mappa Già dai primi livelli Si sta rivelando A parte più difficile Delle precedenti mappe fatte Ma soprattutto Molto più Complessa Più organizzata Cioè la vedo Molto più ben fatta Gli altri erano un po' Grossolane E qui invece Sembrano un po' Più curati i livelli Non lo so Mi sta piacendo Devo ammettere che Mi sta piacendo Ora io devo andare lì sopra O in qualche modo Devo andare da questa parte Penso di dover andare da quella parte Ma non così E nemmeno così Ok cerchiamo di non fare puttanare Cerchiamo di tornare lì dove eravamo Senza bestemmiare troppo Ok Adesso così Porco cane Maledetto Allora Ritorniamo qui Poi qui sopra Poi qui sopra Poi ci allarghiamo e facciamo così Ci allarghiamo e facciamo così Poi così Poi così E ok Siamo tornati qui Adesso questo è facile Saliamo le scalette Tra l'altro Sta scalettina così Molto carina Poi da qui Sicuramente non dobbiamo andare lì Perché non abbiamo abbastanza Come posso dire Altezza per poter poi andare lì Dove c'è la porta O lì Sicuramente dobbiamo andare Da questa parte Quindi sicuramente Devo fare così A che serve Ok Mi apre il blocco Su cui io devo andare A tempo fra l'altro Ok quindi Quando rientra quello Mi apre la porta Perfetto Ok Perfetto Ce l'abbiamo fatto al primo colpo Ottimo Adesso andiamo qui sopra Ok quindi adesso Devo andare sul blocco E può andare lì sopra Ma io non credo di avere abbastanza altezza Per andare lì Non vorrei dire Ma sono abbastanza sicuro Che non ci devo andare là Qualcosa mi dice che devo andare O qui di lato O con quel blocco Tipo là sopra Allora aspettate Cerchiamo di capire Perché io adesso sono andato lì Poi schiacciando il pulsante Sono salito qui sopra Quindi o devo andare da questo lato O non lo so Perché io tecnicamente Sono arrivato da lì No? Credo Sì perché Sono arrivato da lì Sono salito là O no Ah no forse devo andare su quel blocco Entrare là dentro E poi salire lì Per fare questa salita Credo eh Non ne ho idea Adesso proviamo a vedere Ok sì 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 Esattamente così Quindi andiamo da questa parte E dai che bastardata Però madonna Santissima Meno male che ce l'ho fatta a primo colpo Ok E dai però madonna Che coglioni Sti cazzo di Salti ad angolo Ma vaffanculo Ma che palle Maledetto Salto di merda Dai mi devo rifare tutto Che coglioni Madonna Ah no giusto Non devo andare di qua Ma di qua Poi qua Poi così Poi così Sì Sì Così così Saliamo la scaletta Facciamo tutto sto casino Poi da qui Dobbiamo andare così Poi così Poi schiacciamo qua Facciamo così Entriamo sulla porta Saliamo Per fortuna Dopo che lo fai una volta Che più o meno Capisci come lo devi fare Non diventa troppo difficile Il problema è fare Sto cazzo di salto Ma porca di quella puttana maledetta Che coglioni Mi devo pure stare zitto Io vedi 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 Perché io poi parlo E E faccio casini Poi mo mi inizio ad incazzare Perché poi Quando un livello Lo faccio 20 volte Mi inizio ad investigliare Porca di quella troia Maledetta E poi le cose le faccio male Io lo so Ormai è sempre così In ogni fottuto video Di mappe parkour Quando mi incazzo Poi va a finire sempre male Porca troia E poi mi dite Non bestemmiare Come cazzo Vai a non bestemmiare Mannaggia la miseria Ok Ma porco cane Vabbè Qua è stata colpa mia Che col tempismo Ho fatto schifo Qui non posso dire Manco niente Vabbè In generale In realtà Quando cado È sempre colpa mia Però facciamo finta di niente Diamo colpa alla mappa Che cosa buona e giusta Non è mai colpa del giocatore È sempre colpa della mappa Vedi Anche in questo caso Sempre colpa della mappa Ma porco cane Che coglioni Allora Rifacciamo tutto Molto molto Con calma Anche qui Anche porco cane Ma c'è un blocco in testa Ah ok Ma l'avevo dimenticato Dicevo io che Sbattevo da qualche parte Non mi faceva saltare Ok Ok Va bene Va bene Perfetto Fra l'altro Nei commenti Mi avete detto Aspettate facciamo Sto salto di merda Porca troia Dicevo nei commenti Mi avete detto Che se imparo Ad usare il control Per correre Diventa molto più facile Sia giocare in generale Sia soprattutto Fare parkour Ecco Probabile Il problema è che io Non riuscirò mai A schiacciare Il control Per correre Non riesco proprio A coordinarmi Con le dita Per poterlo fare Quindi Penso che andrò A vita con Con il doppio click Sull'avanti Sul tasto W Porco Cane Maledetto Fra l'altro Fra poco moriamo pure Con tutto il danno Che sto prendendo Per fortuna Essendo adventure mode Non perdiamo fame Mannaggia Chi so io Mannaggia Però se continuiamo A prendere sti cazzo Di danni così Può essere che moriamo Quindi stiamo attenti Fra l'altro Sto livello 7 Lo vogliamo finire Perché ci sto stando Un po' troppo Ormai ci sto facendo case Sto cazzo di livello Oh cazzo Alleluia Ok Ok Perfetto Ma cerchiamo di fare attenzione Ok E mo c'è il salto Bastardo infame Come cazzo lo devo fare Sto salto Regà Cioè è un casino Ma porco Che palle Madonna Che voi voi Quando io grido Non sentirete un cazzo Perché il software Che mi modifica Il microfono Non fa sentire mai Un cazzo Quando grido Però fidatevi Io sto gridandolo un poco Che palle Madonna Mamma Mamma Che nervoso Che nervoso Porca troia Maledetta Infame Bastarda Lurida Come fate a dire Non bestemmiare Non si può Non bestemmiare Porco Chi so io Allora Facciamo tutto Molto molto Con calma Un cazzo Con calma Un paio di palle Io mi sto agitando Fin troppo Madonna Ma manco i salti Normali Che prima riuscivo A fare senza problemi E ormai sta diventando Tutto impossibile Ma che cazzo Dai almeno a livello 8 Arriviamo E che cazzo Proprio Ma non ci credo Ma come ha fatto A frenarsi in aria Scusa Cioè È arrivato a un punto Ha trovato un muro invisibile Davanti a sé Ci ha sbattuto la faccia Il personaggio di minecraft Madonna santa Ecco Questo è quando Veramente mi sto innervosendo parecchio E io quando mi innervosisco parecchio Poi inizio a muovere Le mani a caso E va a finire Che il personaggio Inizia a buttarsi giù Dalle parti Ecco Adesso non ho neanche Fatto la rincorsa Quindi mi sembra giusto Che non riusciamo a fare Il salto come si deve Allora Facciamo Ma porco Cane Maledetto Voi non mi vedete Perché io non ho la cammo Ma Nel mentre che mi sto innervosendo E sto bestemmiando Mi sto facendo Pian piano più indietro Con la sedia Va a finire Che fra poco Gioco con mouse e tastiera A terra Il che non credo Sia proprio Né comodo Né tantomeno ergonomico Così che non salta Perché non sta saltando Mannaggia La miseria Mannaggia La miseriaccia Non ho capito Perché non ha saltato prima Boh Vabbè Allora Facciamo tutto Molto Molto con calma Risaliamo qui Adesso da qui Ce ne usciamo Leggermente E ci facciamo Sto saltino In tutta facilità Ma dobbiamo essere Veloci Ok Entriamo qui dentro Andiamo qui sopra Andiamo qui E mo devo fare Sto salto di merda Come lo faccio Sto salto Così è l'unica cosa Che mi viene in mente Mettiamoci un attimo In terza persona Quanto esco fuori Se faccio così Aspettate Facciamo un attimo così Sto completamente fuori Sì che sto completamente fuori Questo vuol dire Che se io Vado a lasciare lo shift La cado E quindi non va bene Come lo devo fare Sto salto Mannaggia La miseria davvero Exit un paio di palle Che poi Devo saltare qui Saltare lì Poi lì sopra Poi lì che è un casino Poi qui c'è un altro salto Ad angolo Bastardo Per poi andare qui sopra E buttarmi Sul cubetto di slime E andare alla fine È un cazzo di casino Ma porco cane Dove sono? Dove cazzo sono arrivato? Ma Ok Non pensavo Di poter arrivare qui Ma va bene Ma porco cane Maledetto però E che coglioni Ma io Non lo so eh Cioè per una volta Che mi trovo più in alto Poi cado giù Ma porco Madonna Signore mamme Delle persone Che magari mi guardano Dei ragazzi Che magari mi guardano E non vogliono Che i loro figli Sentano parolacce Ecco Io mi sto trattenendo Pure un po' Però fino a un certo punto Poi sinceramente Ve ne potete andare A fanculo voi E il vostro Non dire parolacce Perché Non puoi non dire parolacce In qualche modo Ti devi sfogare O dici le parolacce O prendi la tastiera E la sbatti a terra Però siccome la tastiera Mi serve Non posso sbatterla a terra Ma porco Maledetto Infame Regà Eeeh Un cazzo di salto Impossibile Porca troia Cioè vabbè L'ho detto pure a livello 5 Che era impossibile Però Non è che qua Sia tanto meglio Che cazzo è Che cazzo è successo Non ho sbattuto No non ho capito Così che mi ha spinto fuori Scusa Ma io ero arrivato sul blocco Così che mi ha spinto fuori Ma vabbè Sa cosa non l'ho capita Cioè io ero arrivato lì sopra Qualcosa mi ha spinto giù Ero arrivato pure sul blocco di Di stonno Quello là che si muove col pistone C'ero atterrato Qualcosa però mi ha spinto giù Ci sono i fantasmi In minecraft Non lo so Boh vabbè Non so che dire Cazzo io pure Che all'inizio ho detto Oh bella sta mappa Mi sta piacendo Un paio di palle Cioè Succedono cose Che non stanno Né in cielo Né in terra E' vero che Le altre mappe Erano un po' meno curate Almeno sembravano E poi questi Di questa mappa Scusate Abbiamo visto solo I primi 7 livelli Per adesso Se riusciamo Magari vediamo l'ottavo Ma a quanto pare Ne dubito Però cioè Curata ok Ma viene a un certo punto Sta mappa E se poi ci sono Ste puttanate Che succedono cose Che non si capiscono Come avvengono Eh la cosa Non va proprio benissimo Allora Saltiamo qui Ok 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 Vabbè questo è facile Perfetto Saltiamo pure questo Questo ormai Abbiamo capito Più o meno come farlo Ed è scaduto già il tempo Allora facciamo Un ultimo tentativo Questo è il mio ultimo tentativo Per Fare Questo livello Arriviamo sopra Andiamo qui tranquillamente Arriviamo qui E cerchiamo di capire Come caspiterina fare Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Ce l'abbiamo fatta Anche a sto giro Ok E mo devo fare Questo salto di merda Che non è facile Per un cazzo Tiè Che ho detto io Non era facile Per un cazzo Ovvio Vabbè Continuiamo a provare Finché non cadiamo Proprio a terra Poi quando cadiamo A terra Vaffanculo E chiudiamo l'episodio Perché 20 minuti Ormai già li ho registrati Non è che posso registrare 3 ore Già nello scorso video Se non sbaglio Ho registrato tipo 40 minuti Anziché 20 E poi in editing Saranno almeno 30 minuti E non va bene A meno a sto giro Porca puttana Cerchiamo di non fare Troppo minutaggio Anche perché Vedere me Che continuo a sbagliare Nello stesso cazzo di livello Non deve essere di certo Particolarmente divertente Certo Sicuramente poi Vi divertite a vedermi Bestemmiare Ma quello Ormai lo so già Perché siete dei bastardi Infami Che si divertono Con le disgrazie Degli altri Con le mie disgrazie Di quando sbaglio Ma vabbè Porco Cane maledetto Bastardo Infame Aggiungiamoci pure Troglodita Perché si Giusto per aggiungere Qualche parola Al nostro vocabolario Ok siamo caduti a terra Vaffanculo 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 Basta Bene signori Abbiamo fatto Due livelli Abbiamo fatto il 5 Il 6 Un po' il 7 Tanto Tecnicamente siamo arrivati Alla fine Bisogna solo arrivare in cima A quella scaletta di merda E riuscire a saltare Verso l'exit Il problema è arrivare A quella scaletta di merda Ma vabbè Facciamo finta di niente Buono Nel prossimo episodio Ci arriveremo sicuramente Spero Comunque Spero il video vi sia piaciuto Nel caso fosse così mettete like Se non vi è piaciuto invece mettete dislike Ma commentate dicendomi cosa Non vi è piaciuto In modo tale che possa migliorarmi Se vi sto simpatico Iscrivetevi E magari attivate la campanella Che a me come al solito Non dispiace mai E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao